Ci sono cose che della nostra squadra conosciamo benissimo e delle cose che probabilmente sono ancora da scoprire, tipo questa qui, perché Raspadori ha i numeri del centrocampista, puro sotto l'aspetto della corsa come chilometri. Il fatto che in Turchia ci sia un calcio di livello ce lo dicono gli allenatori italiani che noi abbiamo in Turchia. Quindi, ovviamente qui in Turchia ci sono in particolare di un calcio di livello cattivo, ho bisogno di ricordare l'Italia qui ci sono in modo di ricordare lo cattivo. Quindi a un calcio di livello cattivo. Ci sono persone come Farioli, Pirlo, Montella sono allenatori che sono venuti qua perché sapevano di trovare una qualità di calcio per poter far vedere le loro capacità. Montella è venuto anche qui e qui fuori stasera e mi ha parlato benissimo del calcio turco. Stasera in dei momenti hanno fatto girare la palla benissimo in mezzo al campo e ci hanno messo anche in difficoltà per cui ormai il calcio turco è a livello del calcio del calcio europeo. E' sicuramente possibile andare a prendere dei calciatori da questo campionato per farli giocare in Italia. perché Elmas e Minjai hanno fatto vedere di essere top player anche nel nostro calcio per cui questo può succedere a tanti altri. E' sicuramente solo che Minjai e Elif Elmas non solo un'azienda di poterbino al un'azienda di poterbino. Perché i loro arrivati in Italia, i loro come poterbino aiutare i nostri calciatori, i nostri calciatori da poterbino, i nostri calciatori di poterbino. E' così, perché non ci sono i calciatori di poterbino, non ci sono i calciatori di poterbino. però se li riusciamo polisiana che gli altri ma assolutamente questo è un po' di direzione questo è un po' di direzione non mi chiederemo ma ovviamente molto qualiteli futbolcular o loro tutti sappiamo e non mi chiederemo e non mi chiederemo non mi chiederemo se non mi chiederemo se non mi chiederemo non mi chiederemo